Da Milano a Città della Notte, Augusta, Villasmundo, da Zelling al Teatro Cannata, Giovanni Cacioppo, un personaggio televisivo che oggi fa l'onore di essere qui con noi, anche di origini siciliane, mi pare. Non di origini, ci tengo ad essere siciliano o puro sangue, sono di Gela. Di Gela e allora siamo a posto, perché gelese come Crocette, anzi potrebbe fare una battuta immediata su Rosario Crocette. Com'è Crocette? Con me è stato sempre simpatico e gentile, io lo conosco da 30 anni, da quando ero le prime armi, quindi per me è una persona a posto. Allora, con questa battuta così, captazio e benevolenza con fronti di Rosario Crocette, siamo qui a Città della Notte perché c'è stata un'importante manifestazione che è ancora in atto, cioè una chermesse, possiamo chiamarla anche così, a favore dell'Ilt, Lega Italiana Contro i Tumori, che ad Augusto aprirà una sezione ed abbiamo una rappresentante ad Adrengali, altissima più di me, e il presidente provinciale, il dottore Castrobello, che è anche coordinatore regionale. Allora, prima diamo la parola al presidente provinciale. Com'è che vi siete decisi di venire qua ad Augusto? Beh, nell'ottica di capillarizzare il lavoro fin qui svolto nella provincia di Siracusa, avendo già istituito altri tre centri di prevenzione, rispettivamente nell'area sud, nell'area montana e su Siracusa Città, era doveroso da parte di Lilt rivolgere la nostra attenzione anche in un territorio come quello dell'area nord, che raggruppa poi i comuni dell'area industriale, quindi in questo caso Priolo, Medidi e Augusta. Dove c'è un'alta morbidità e anche mortalità, lo vogliamo riconoscere questo o no? Beh, diciamo dove le incidenze dei tumori si appalesano con una certa rilevanza. Questo comunque poi preso nel particolare, perché il dato fondamentale è che i tumori, li vediamo crescere andando da nord e decrescono verso il sud, poi è ovvio con le proprie caratteristiche ambientali, perché sappiamo che la malattia tumorale è una malattia multifattoriale, quindi la vera causa di tutto questo bisogna ricercarlo in tanti fattori, fra cui quello ambientale. E il dato che più, diciamo, ci sconforta non è tanto la problematica della incidenza del tumore, che, ripeto, poi nella fattispecie si mischia con tutto quello del territorio nazionale. Quello che è più importante, invece, è sottolineare come il dato di mortalità sia sicuramente più alto e questo è legato proprio ad assenza della prevenzione sui territori del sud. Quindi il divario, nonostante abbiamo delle basse incidenze tumorali, abbiamo un indice, riportiamo un indice di mortalità molto più ampio e questa forbice è legata sicuramente ad un'assenza della diagnosi precoce, un'assenza di quelli che sono i fenomeni di anticipazione e diagnosi che permetterebbero ovviamente ad un soggetto, oltre che ammalarsi, ma in questo caso non seguire la malattia, ma praticamente guarirsi. Sappiamo che se prendiamo la malattia e arriviamo prima, come classe medica non ci limitiamo a curare, ma ci apprestiamo a fare un'opera di guarigione. E questo è il dato fondamentale. Un'azione terapeutica anche. Un'azione vera e preventiva, di prevenzione. Ora mi pare che diceva un vecchio proverbio, una vecchia massima, dice il sorriso fa buon sangue. Ora Giovanni Cacioppo qui è un battutista, un satirico, un comico, un cabarettista. Bisogna ridere per migliorare anche il nostro tenore di vita, no? Ma sicuramente il sorriso fa buon sangue e aiuta a stare bene così, però la prevenzione sicuramente è più importante. Non può essere il sorriso soltanto a quelli prestati. Come testimone è qui ad Augusto perché c'è un programma adesso da realizzare, no? Fra un po' i migliori anni della nostra vita. In cosa consiste questo spettacolo? Rispondo, aiuto io Giovanni. Rispondo io, diciamo. È uno spettacolo che praticamente viene organizzato, in effetti è uno spettacolo dentro lo spettacolo, organizzato dalla Sanremo Production Academy, in cui si inserisce benissimo l'opera del nostro testimonial, lo volevo chiamare madrina, ma poi lui farebbe la battuta. Farebbe la battuta, lasciamo corre perché altrimenti pensiamo a crocente. Lasciamo stare. Lo fa da testimonial proprio perché l'immagine, in questo caso la comunicazione che Giovanni porta nella nostra cittadina può essere anche un messaggio per veicolare quel fenomeno importante di sensibilizzazione nei confronti cittadini proprio alla diagnosi precoce. Allora, presentiamo la dottoressa Dringali, la presidente di questa nuova associazione, responsabile, referente, va bene, meglio referente, d'accordo. Allora, questa prevenzione, questa diagnosi precoce, come devono esattamente essere applicate qui da noi? La diagnosi precoce, la prevenzione, quali sono gli strumenti, le metodologie, le didattiche, insomma, qual è il vostro programma? Diciamo che la sensibilizzazione della popolazione è il primo passo da fare, perché la conoscenza e la coscienza è salute, e quindi la gente deve conoscere quello che ha a che fare con la salute e dalla diagnosi precoce, ma ancora prima della prevenzione secondaria, avviene la prevenzione primaria, cioè stili di vita ed abitudini corrette, un'alimentazione corretta come quella mediterranea, l'assenza di alcol, di fumo, un'adeguata attività sportiva, sono i dati che determinano la prevenzione nella prospettiva della diagnosi primaria nella lotta contro i tumori. Quindi la capillarizzazione, ma soprattutto la sensibilizzazione della coscienza civile. È questo che abbiamo voluto fare organizzando queste due serate. La Lilt ha chiamato Augusta, Augusta ha risposto, ha risposto in maniera forte, la presenza è stata veramente massiccia, ieri abbiamo fatto sold out, questa sera replicheremo, per cui avremo una platea di giovani, meno giovani, ai quali veicolare il nostro messaggio di prevenzione, che parte appunto dalla prevenzione primaria, per poi passare alla prevenzione secondaria, per poi arrivare alla prevenzione terziaria, che sono le tre tappe di cui si occupa la Lilt. Quale sarà da Augusta? Già c'è? Allora, stiamo lavorando per trovare una casa da Augusta, in sinergia con le istituzioni pubbliche e private, stiamo valutando delle proposte e speriamo a breve di dare l'annuncio di avere un indirizzo, una casa dove istituire questo nuovo centro Lilt. Io prima di passare la parola, per chiudere a Cacioppo, almeno una battuta che pensavo nella fare, ma io vi domando, Augusta deve avere un centro oncologico nell'ospedale, era stato detto, promesso, proclamato, ma poi non so se si farà mai, ma poi come mi prometti in questa ottica? La Lilt, intanto partiamo da questo presupposto, è un ente pubblico che poi vede diramazioni provinciali in tutte e 106 le istituzioni provinciali, che essendo un ente pubblico diretto dal Ministero della Salute, ovviamente si pone in questa situazione in una perfetta sinergia con le istituzioni sanitarie. Allora potreste avere la sede all'interno dell'ospedale del Muscatello attuale, quello che abbiamo? Potremmo avere la sede dentro il Muscatello, così come l'abbiamo su Siracusa Città, dentro l'ospedale Rizza e in effetti, diceva la dottoressa Tringali, abbiamo tutta una serie di opportunità che ci sono state offerte dalle istituzioni su cui stiamo valutando l'opportunità proprio di creare un centro istituzionale di Lilt Augusta e proprio per quello che lei mi vorrebbe fare dire, preciso, che proprio Augusta, visto e considerato anche quello che potrebbe essere da alcuni a torto o a ragione l'impatto ambientale, è ovvio che noi andremo ad istituire un centro, quando parliamo di un centro stiamo parlando di un centro di Lilt, che sia in grado realmente su tutte le branche specialistiche, quindi provvedere all'anticipazione di diagnosi di tutti i big killer. e già avere quelle 10 specialità dentro, ci permetterebbero di anticipare l'80% dei tumori. Questo ovviamente non lo facciamo a titolo esclusivamente Lilt, ma la Lilt, così come succede in tutte le altre città d'Italia, collabora con l'istituzione sanitaria per realizzare questo obiettivo. Ci sono tanti esempi in Italia, sappiamo che la Lilt a Milano è dentro l'istituto tumori, a Roma e dentro l'istituto nazionale per la cura dei tumori, a Roma e a Regina Elena, ci sono tanti esempi di integrazione. Quindi gli spazi qui al Muscatello ci sono, nel nuovo padignone ci sono. Però ripeto, da questo punto di vista, diciamo così come abbiamo sempre fatto, troveremo una soluzione a questo problema e speriamo nell'arco di qualche mese di poter ufficializzare la presenza del centro, dandone l'avvio con l'operatività. Allora ci farete sapere, nel frattempo vediamo con Cacioppo, ma visto che per noi è politica, c'è Renzi che fa? Fa male o bene alla nostra salute in questo momento? Ma per adesso sta parlando bene. Sta parlando. Finalmente uno che sta facendo qualcosa, è partito con una forte carica. Speriamo che riesca a mantenere tutto quello che sta dicendo per adesso, ancora è un Presidente del Consiglio giovane, quindi essendo giovane dobbiamo verificarlo. Come lo verifichiamo? Con il timbro? Lo verifichiamo con i risultati, magari tra un anno ci rincontriamo e vediamo di tutto quello che ha promesso, cosa ha portato a terra. Si è aggregato a noi Marco Bertoni, che è un'anima della città della notte, forse è l'anima di questa organizzazione, poi perdonatemi se sbaglio, Marco che cosa abbiamo in mente di fare per questa Lilt? Ancora? L'anima ce l'hai sulla tua destra, diciamo. L'anima di questa organizzazione, questa, 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 dove si è, la location. Della location. Diciamo che è nata una sinergia con la Lilt. Siamo a disposizione qui sulla struttura di organizzare tantissime cose, anche perché si sta investendo sul territorio, sulla città di Augusta, su una cosa importante, parliamo di oncologia, parliamo di persone che hanno bisogno. Diciamo che la prima medicina la dà Giovanni perché... L'ho chiesto prima, il rito è la mia moglie, tu non c'eri ma già te l'abbiamo fatta questa domanda. Ma lui è una battuta, non c'è una... Ma una barzelletta, una cosa corretta, una barzelletta, racconto io una barzelletta. La riservo per dopo. Per dopo, va bene, va bene, giusto, giusto. Fa bene, è un grande professionista che deve fare così. Va bene. A conclusione, diciamo che stasera è un grande piacere avere Giovanni qua sulla nostra struttura e da anni che stiamo lavorando sul, diciamo, tante tipologie di teatro, la città di una notte aperta, soprattutto anche al dialettale, a livello di tabellone nostro negli anni. Poco fa proprio chiedevo a Giovanni... Di ritornare qua, di ritornare, di ritornare. Questa sarà una promessa perché Giovanni... Il prossimo anno vorremmo fare degli spettacoli investendo sui siciliani. Benissimo, un one man show oppure portando altri attori... Sarà fatto quando sarà giunto l'accordo. Sto dicendo investeremo sui siciliani, su quelle che sono tutti quei personaggi a livello televisivo che... Cioè la televisione è fatta dei siciliani, guardiamoci in giro... Pensiamo allo solo Fiorello, per esempio. E' un'unica show, però solo Fiorello. E Beppe Fiorello erano di qua. Va bene, allora mi pare che abbiamo finito. Grazie a due volontari, volontari al massimo livello per questa battaglia contro i tumori.